Eccoci, nuovo episodio di Facciamolo, siamo qui con un ospite di una certa importanza, di un certo folklore italiano, tutto italiano perché poi è partito da giù, è salito su, è importante, è importante, siamo qui con Nello Taver. Cuccioli, cucciole, bonsoir, anzi bonjour. Bonjour, allora innanzitutto grazie di essere qui, io volevo chiederti un pochino, innanzitutto se ti va di introdurti, di presentarti un pochino perché a me piace presentare l'ospite però secondo me è sempre giusto lasciare spazio individuale in questo senso nella presentazione. Chi è Nello Taver? Il mio vero nome è Vincenzo, ma mi chiamano, mi chiamo Nello da ormai dieci anni, un nome l'ho scelto, un nome l'hanno dato e Nello Taver, perché tutto nacque da quando avevo quindici anni, io già facevo i meme su Facebook e mi chiamavo Vincenzo, che faceva cagare come nome. Una notte, quando avevo quindici anni, sfiorai il cometilico per la prima e ultima volta nella mia vita, tutto nacque con una bottiglia di Tavernello, il giorno dopo parlando con i miei amici del fatto che il mio nome di Facebook facesse cagare, mi dissi cazzo mi chiamo Tavernello, e un mio amico disse no, Nello Taver, e da là è rimasto. E' stata la leggenda quella. Quindi non mi dà fastidio, cioè mi chiamano Nello, Vincenzo, anzi mi dà più fastidio quando c'è qualcuno che sa come mi chiamo e mi chiama Vincenzo per far vedere che conoscemi, ho capito? Ok, ok. Io sono più vicino a te e fra te, cioè... Tipo quella cosa che quando hai conosciuto una persona che magari ha nome d'arte lo chiami per nome. Sì, sì, perché io ti conosco veramente. Sì, sì. Quindi tu vieni dalla vecchia scuola memetica italiana che si partiva da Facebook. Sì, ho amministrato, cioè sono cresciuto con le pagine Degradoland, roba del genere, fabbrica del Degrado, è stata quella la mia scuola all'inizio che mi ha deviato da ragazzino. Sì, 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 io mi ricordo i gruppi, le cose, mille ban, anche i crimini. Sì, 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 infatti poi a un certo punto, bye bye, addio, sì, sì. Era una roba incredibile, io mi ricordo gli eventi, una sera c'era mi sa il primo evento di Degradoland e io, a parte penso siamo coi tanni, tu sei 98, no? Sì. Sì, c'avevo tipo 16 anni e io stavo in periferia di Roma e volevamo fare questa cosa che andavamo di nascosto al festival e poi alla fine ci siamo cagati sotto e ci siamo scoppiati di canne tutta la notte senza andare lì. Poi vedevamo i video e vedevamo delle cose allucinanti, però era una situazione. E poi quindi ti sei spostato su Instagram fondamentalmente. Ho smesso di amministrare pagine perché comunque è rivelato, cioè stavi nascosto dietro la pagina, avevi il tuo nickname però finiva là. Ho continuato a pubblicare meme, video, stati sul mio Facebook personale che uso ancora e mi diverto tanto perché litigo tantissimo su Facebook. Mi sa che ho visto in recente la fai da quella Drake Kanye su Facebook. Penso tu l'abbia svolta su Facebook. Sì, 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 sì. Tutte le mie fai da. E poi lo uso come tester per i meme di Instagram. Da Facebook c'era mio caro amico Ciro Zellweger, che ti saluto, frate Ciro, che mi diceva bro hai rotto il cazzo con sto Facebook, fai video su YouTube. E io dicevo no, fanculo, fanculo gli YouTuber, non voglio farlo. Poi per fortuna mi ha convinto, ho iniziato a postare video su YouTube. Ah, quindi prima YouTube di Instagram. Instagram l'ho iniziato a utilizzare il giorno, veramente il giorno in cui hanno messo le storie. Ok. Quel giorno io ero in vacanza, all'improvviso faccio l'aggiornamento di Instagram, metto le nostre storie e da là sono impazzito. Ho detto wow, bellissimo cazzo. Tra l'altro penso che tu sia tipo uno dei pochissimi in Italia che cresce con le storie perché te fai delle storie. Cioè io mi ricordo che tu ho cominciato a seguire perché mi mandavano le storie tue. Sì. E impazziamo e diciamo, guarda questo matto che cosa fa, che cosa dici. E mi diventa perché comunque c'è YouTube a un certo punto abbandonato perché sinceramente lavoravo al video. Era una cosa meno immediata comunque. Invece a me piace, mi viene l'idea, la faccio subito e vedo subito il riscontro della gente. Mi metto a parlare, ridono, litigano, litighiamo. E che cazzo mi piace? Sì, sì, è più immediato e secondo me credo matchi meglio col tuo processo creativo, cioè con la tua creatività. Tant'è che pure a livello musicale tu hai iniziato con i freestyle, giusto? Sì, poi YouTube, il quarto, quinto video era Massimo Tracy Freestyle 1. Ho iniziato a fare i freestyle ogni tanto, fin quando poi ho fatto e pippo. Che è esplosa totalmente dopo un anno, due anni, in quarantena. E da là già mi erano iniziate ad arrivare richieste per fare live, DJ set. Però sinceramente non ero pronto anche perché lo facevo molto per giocare, per il meme. Ho continuato a prendere più sul serio la strada della musica e ho fatto il primo EP e poi ho detto cazzo adesso possiamo fare secondo me un tour, possiamo iniziare a fare i concerti, che c'è qualcosa di più concreto da portare in giro rispetto a freestyle, che non ti nascondo, che è tolta e pippo, Tarantelle e Massimo Troisi, li cancellerei tutti da YouTube. Vabbè, fa parte pure quello del processo di identificazione poi nella propria arte. E quindi qual è stato? Ti ricordi se c'è stato un momento, un periodo in cui hai detto ok, ho fatto i freestyle, voglio fare musica proprio. Perché penso sia diventata una cosa un po' più meme, una cosa seria. Allora, c'è stato il momento dell'illuminazione, perché io comunque dopo Tarantelle Freestyle, se non mi sbaglio, dopo Tarantelle Freestyle io non ho mai più pubblicato niente di freestyle, di musica. E Lessi, un commento di un tipo su YouTube, che mi diceva cazzo bro, ma ricordati che c'è gente che ti segue per la musica, cioè droppa qualcosa. Ho fatto Massimo Troisi Freestyle 2, che è stato il primo pezzo su Spotify, ho fatto un altro pezzo su Spotify e poi ho detto cioè non ha senso andare avanti così a singoli, a cazzo di cane. Ho droppato il primo EP. Grazie al commento di quel tipo. No, no, è bellissima sta cosa, quando magari tu fai qualcosa e poi ti ritorna un feedback anche dopo tempo e recuperi quella cosa. È una roba, è una roba che i social regalano tra le cose che, no? Perché poi critichiamo sempre i social, però in realtà secondo me a livello proprio di... Cioè aiutano anche il processo creativo, il feedback. Cioè è una roba figa. Sì. Te li devi sapere anche vivere bene, ovviamente, perché comunque mi arrivano, soprattutto magari adesso, che sono più cresciuto dopo aver fatto il primo tour sono iniziati ad arrivare gli hater. Prima quando facevo le cose così, a cazzo di cane, che non c'erano grandissimi risultati, ma soltanto magari visualizzazioni, eccetera, la gente è tutta a posto. Poi quando hanno iniziato a vedere il risultato vero sono arrivati un po' di hater. Ma no perché l'invidia, eccetera. Secondo me ci sta, è un processo normale. E se te li vivi male i social network ti distruggono. E io secondo me sono stato abbastanza educato dalla scuola di Facebook, che ho fatto all'inizio. Eh, perché forse quella è quella più greve. Sì, appunto c'erano... Ragazzi, Facebook degli anni addietro era veramente una cosa terrificante. Cioè... I flame, io mi ricordo che c'era proprio il concetto di flame sotto i post, le shitstorm. Vite rovinate proprio. Sì, sì. Una gogna medievale. No, concordo. Secondo me c'è anche un po' da capire l'hating che si riceve. Un po' anche da scegliere i propri haters, no? E da apprezzarli. E dice, ok, ho quegli hater lì, sono di quella categoria lì. Va bene che sia così, no? Anche perché è una cosa inevitabile. Tipo, tutti i miei haters, la maggior parte, sono su Facebook e sono tutti universitari di Bologna. Ok. E vabbè, ma è giusto così. Ti sei scelti. Sono tutti uguali. Quando c'è uno che mi insulta, vede il profilo, sono tutti uguali. Non può non essere fuori corso a lettere. Esatto. Non c'è alternativa. Ok. Proprio in questo senso, ti volevo chiedere. Io ho studiato comicità, ho fatto un po' di stand-up comedy in passato. Si è sempre discusso molto, anche un pochino filosoficamente, sul fatto della comicità. Non so se hai mai sentito uno scandalo relativo a Pio Amedeo, della comicità top-down, che quindi tu in una determinata posizione non puoi andare a denigrare o comunque a fare battute su persone che sono meno privilegiate, no? È un po' un concetto intersezionale. E io su questa cosa non concordo, cioè secondo me è molto un discorso di responsabilità che uno si assume nel momento in cui fa comicità. Quindi tu puoi fare comicità su quello che ti pare, però ti assumi le responsabilità. Quindi che stai a fare uno spettacolo comico e ti danno un destro, un faccio a fine spettacolo, che ti fanno una shitstorm, che vieni criticato e tutto quanto. In questo senso tu sui social c'hai una comicità abbastanza frizzantina. Nel senso non è che se uno ha detto c'è la cancel culture, ok, cavolo, tu hai detto proprio sti casi, cioè vai, vai dritto, sereno, no? E ti hanno mai, cioè ti criticano, ti capita che o magari sei riuscito a incasellare, incanalare tutto bene di Sonnello Taver, cioè nel senso non serve che te incazzi con me. Allora, negli anni addietro facevo cose molto più grevi, veramente in maniera irresponsabile, tanto ho imparato negli anni, però alla fine le persone che mi seguono hanno capito la persona che sono, anche magari quelle che non mi seguono hanno capito che alla fine sono un bravo ragazzo e quando faccio una battuta su qualcosa io non rido per la disgrazia, io rido per la battuta, ok? E questo me l'ha insegnato Ricky Gervais, che è un grande. Ed è anche un modo per me di parlarne, di omaggiare il fatto accaduto, anche se molti non saranno d'accordo con questa cosa. Però voglio fare un esempio di qualcosa che è successo l'ultima mese. No, esempio quando è venuto a mancare Maradona, mi sono preso un sacco di insulti perché ho fatto qualche battuta. Io dicevo alla gente, ma secondo voi veramente sono contento che è morto Maradona? Questo è il mio modo di omaggiarlo, cazzo. Non lo sto prendendo per il culo perché è morto, sfigato, sei morto. Diventa pure quasi una tradizione che succede un fatto di cronaca o comunque lutti nel mondo dello spettacolo, nel mondo del calcio e c'è sede che fai la battuta che c'è scherzo. Bisogna però sempre vedere la battuta che è... C'è poi anche la cosa, la regola quella della tragedy plus time di... Cazzo non mi viene il nome... Comunque del primo stand-up comedian della storia, roba degli anni 50, lui diceva se può fare la battuta... In realtà criticava sta cosa. Se può fare la battuta guardando la tragedia, però facendo passare un po' di tempo. Nel senso che se uno la fa subito... Ah sì, sì, bisogna vedere anche il tempo, giusto. Poi c'è la gente... Danny Bruce, se non erro. C'è la gente che dice... Eh no, non si può ridere di queste cose, delle cose bru... Cioè, si può ridere solo delle cose belle. Sì, no, ridi più. Cioè, nel senso, è un po' lo scopo anche dell'ironia, ma a livello psicologico proprio. No, sì, è importante, io penso che a riguardo sia proprio importante fare un passo indietro e guardare... Non mi sono ricordato una battuta, quando morì Nelson Mandela, tipo scrissi, si è spento Nelson Candela. Ok. Ok. Cioè, appunto, secondo me è importante che la gente veda queste cose, sia il black humor peffallo, che magari anche un tipo di comicità che vada a prendere un determinato target. Non si può trasportare la filosofia intersezionale anche nella comicità, perché la comicità, la satira, dovrebbe essere una delle cose più liberi a livello espressivo, cioè è proprio la cosa che deve essere più libera nell'arte. punto, cioè nel senso, non c'ha regole, a parte il fatto che deve far ride o quanto meno riflette o cose del genere. Poi io so, pure per la comicità, quella cazzo di cane, non è che sempre ci deve stare il messaggione satirico dietro di critica sociale. Sì, quando un mio amico fa una scorreggia io rido. No, no, ma è normale, le scorreggia fanno... Cioè, nel senso, è una cosa... I reel di Christian De Siga sono importantissimi. Cioè, sono importantissimi. Tu vedi delle cose a Dragon Ball, magari adesso sciusci, no? e tu dici, cazzo, avesse fatto oggi... No, io lo facevano fa. E invece quella è... È un'eredità, secondo me, importante. Culturale, proprio. Però poi, quando c'è bisogno di lanciare il messaggio giusto, comunque... Certo. Bisogna farlo, ma non per pararti il culo, eccetera. Perché comunque poi a finale... Non si può scherzare su tutto, capito? Certo. Ti hai fatto pure la lista. Esatto. No, no, certo. Non è che uno... Secondo me ci deve essere... Il concetto che a me piace è che ci deve essere la libertà, però te ne assumi le responsabilità. Può essere pure che te finisci la carriera, eh? Sì. Però, tu vuoi fare quella battuta, la fai, te finisci la carriera, te sei assunto le tue responsabilità. Fa in disco. È uscito un disco. Sì. Cioè, un disco nuovo di Nello Taver. Io, tra l'altro, ho visto i featuring volato. Che io, super fan. Malatissimo di Speranza, proprio. Grande Speranza. Secondo me è uno degli artisti più forti e più sottovalutati che ci stanno in Italia. Ci racconti un po' questo disco, i featuring, processo creativo? Il disco è stato un par... Cioè, Red è stato... Cazzo. Perché, allora, l'abbiamo iniziato a Napoli. Io e Dave. Nell'home studio di Dave. In me... Comunque io non volevo più uscire da indipendente, perché era... Non ero pronto a fare un disco indipendente totalmente autonomo, da solo, dopo i primi due EP. Poi, in mezzo alla creazione del disco, c'è stato... Andiamo a cercare casa a Milano, trasferiamoci a Milano. In mezzo alla creazione del disco c'è stata... Dobbiamo trovare un contratto con qualcuno che ci piaccia, sia bravo e abbia la visione di me a 360 gradi. Nel senso che, appunto, quando sono andato dai cari amici di Tam Sanca, loro mi hanno detto... Cioè, erano interessati a sviluppare sia la parte musicale, ma anche quella dell'intrattenimento. Cosa che magari le case discografiche dove si andava a bussare o che si sono avvicinate a me non mi hanno mai... Erano interessati solo alla parte musicale. Che poi ti avrebbe probabilmente un po' denaturato, perché tu hai sempre detto che nei live fai degli show a 360 gradi. Sì, per farne esempi. E quindi tanta ansia, anche perché poi io andavo lì, ho vissuto... Cioè, vivevo con mia madre fino a 24 anni, fino all'anno scorso. E quindi un disco di cambiamenti proprio nella mia vita. Capito? E... Cazzo! No, è stato... È stato veramente hardcore. Finirlo, chiuderlo. Anche perché poi avevamo finito il disco e abbiamo iniziato a fare il film. Abbiamo girato il film in nove giorni. E tutti quanti ci dicevano impossibile, non ce la potrete mai fare. E non nascondo che anche io i giorni prima la storia ti voglio bene, però dicevo ma che stiamo facendo? È impossibile. Però ormai ce stavi? No, no, abbiamo fatto. Abbiamo fatto tutto. Il disco è finito. Sono arrivati tutti i featuring che volevo, sinceramente. L'anno scorso beccai Speranza, ci facevamo un aperitivo insieme, mi raccontò delle vicissitudini, di amici, eccetera. E uscì questa storia di un amaro ti sparo, di questo che entra in un bar e dice, è tutto ubriaco, e dicevo un amaro ti spara. E quando Speranza mi ha detto questa frase mi girava in testa un amaro ti sparo e così è nato il pezzo con Speranza. Quindi che è proprio il titolo se non sbaglio. Il titolo, un amaro ti sparo. Poi non avevo mai collaborato con altri artisti nel mio disco, cioè sono stato ospite in altri dischi, quindi anche quest'ansia, capito? Non sapere come gestire tutte queste cose e è stato difficile. È stato molto difficile, sono contento del risultato perché è il disco che volevo fare. Non ci aggiungerei niente, non ci toglierei niente. Che è una cosa rarissima, secondo me. Sì. Cioè non l'abbiamo fatto facendo 50 tracce e poi abbiamo scelto tra quelle 50 tracce le migliori. Il disco è 11 tracce, noi ne abbiamo fatte 13, due scartate. Ok. E' stato... Cioè sapevo quello che volevo, capito? E quello che ci mancava man mano che andavamo avanti. E sono veramente molto felice. Gli altri due featuring sono Inoki e Guè. Che tracce sono? Allora, Inoki mi disse, questo è anche un omaggio al grande Pippo Solo. Grande Pippo. Che salutiamo assolutamente. E quando l'idea del surf dissing nacque in quarantena che non sapevo che cazzo fare, all'epoca facevo ancora i freestyle nelle storie Instagram e mi inizi a fare un freestyle contro di me allo specchio. Ok. E mi è rimasta impresa, ho detto questa cosa poi la dovrò utilizzare un giorno. E' nato così. Poi guarda... Scusate la birretta, il rutino ogni tanto. Quando abbiamo... quando ho registrato la prima strofa di self dissing ho detto cazzo qua sopra ci sarebbe tantissimo Inoki. Ah quindi l'hai proprio pensato? Sì, ci sarebbe tantissimo Inoki. E invece Guè è una storia un po' più lunga che lui mi fece i complimenti quando uscì il mio primo EP con Bill Cosby. Poi disse tipo Bill Cosby, miglior pezzo dell'anno. E dovevo fare la deluxe del disco. e dissi cazzo Bill Cosby fit gue. Poi la cosa non è andata in porto e vengi a Milano tipo dopo un anno per conoscere meglio Lussorio, Rico, Mike Lennon. Facemmo una session con Mike e in un giorno sono uscito e stronza e Mike mi disse cazzo però sarebbe fighissimo fare I don't like di Schiff Kiff in napoletano non mi piace non mi piace siamo andati in studio abbiamo registrato e quando ho sentito il pezzo la strofa il beat ho detto cazzo qua sopra ci vuole guece è perfetto gliel'ho mandata ci sono voluti un po' di mesi poi la strofa è arrivata e sono molto molto contento perché cioè sono cresciuto con Club Dogo e no Statement sul disco è incredibile e puoi capire anche quest'anno che ritornano ai Dogo tipo hai detto perfetto è un cerchio no bello sono molto contento veramente ok anche poi di aver fatto comunque il salto di qualità aver lavorato con altre persone ma comunque il disco la direzione musicale di Dave Valberi Alti con il quale ho sempre lavorato dal primo EP e dal primo freestyle su Spotify quello che fa si incazza si incazza scusami no perché mi ricordo che ci facevi meme su sta cosa tra l'altro cosa bellissima al Nameless c'era Skrillex e hanno la foto insieme bello vabbè doveva succedere e lui somiglia più Skrillex di Skrillex sì perché mo lui c'ha barba sembra un quazzo napoletano adesso Skrillex è vero è vero è vero sembra un po' sì e invece il film ma il film io mi ricordo che è andato in questo modo tipo Lussori ha detto io farei un film per lanciare il disco io ho detto ok il giorno dopo Lussori arriva ok ho contattato uno sceneggiatore ci siamo ho detto cazzo non era quella roba che dici ah sì ci starebbe cioè è stata roba e mi ha messo ansia all'inizio questa cosa del film tanta perché comunque già a finire il disco e cazzo è stata dura poi iniziare la cosa del film quando il disco è finito poco prima dell'uscita però poi dal primo giorno di set ho detto ok come ti sei trovato sul set non so se no beh allora io ho studiato teatro ok in passato figure scusa Diego Nasca che salutiamo chiaramente tanto amore Diego io ho fatto teatro in passato cinque anni Napoli ho fatto tre no un anno da solo due anni al teatro tutto a Napoli e due anni con Fabio Balsamo ok Lady Jagal che è un grandissimo attore e che saluto tanto amore Fabio che salutiamo a voglia in passato ho fatto qualche cortometraggio quindi già ero un po' educato ok quindi non era proprio primissima esperienza né tanto meno attoriale no attoriale no ho fatto vari spettacoli anche nelle chiese ok bellissimo no mi sono trovato bene devo essere sincero non avevo l'ansia solo prima poi quando abbiamo iniziato a fare tutto a posto inizia i primi due giorni i rapporti erano un po' capi pensavo secondo me sto a fa cacare questi mi odiano tutti invece no ci siamo trovati bene ho conosciuto bellissime persone e quando poi c'è il fine set ti prendi anche a male capito sì sì e il film c'è che concetto c'ha ce lo racconti un pochetto il film parla di me che è Dave che andiamo a Milano perché voglio fare il rapper e inizio a fare rapine ok 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 ce l'hai venduto benissimo questa wait ok bene a proposito di di reati cioè di reati di cose sì c'è una mosca tremenda e ci racconti la cosa di di Travis Scott l'imbucata a Travis Scott ah grande volato troppo allora da premettere che era a Monte Carlo durante il Gran Premio non era una vera e propria discoteca che cos'era nella sala congressi del Fairmont un hotel prestigioso che sta a Monte Carlo gigante hanno allestito questa discoteca proprio per grattare tre giorni un giorno hanno fatto Rick Ross un giorno hanno fatto Central Sea e un giorno hanno fatto Travis Scott sapevamo già del timbro di come era fatto perché alcuni amici di il mio fratello Pippo Pippo ti amo mi manchi cazzo è mio caro amico sapeva come erano fatti i timbri perché alcuni suoi amici erano andati da Rick Ross e Central Sea e mi ha detto non è tanto difficile da rifare sto timbro e la sicurezza non è molto arriva il giorno di Travis Scott che la mattina siamo andati a vedere il Gran Premio il pomeriggio siamo andati al Sunset una festa che fanno là dal pomeriggio alla no stavamo distrutti e ho questa cosa di Travis me l'avevo proprio dimenticata all'improvviso usciamo da là dentro io morto fa Pippo oh andiamo da Travis faccio cazzo è vero andiamo c'erano delle amiche dentro di Pippo che hanno provato a farci entrare non ci siamo riusciti siamo andati sul tetto dell'hotel siamo andati a fare il giro ovunque non c'era nessuna entrata aperta io avendo fatto un po' di live eccetera capisco cioè alla fine basta che sei sicuro di te stesso quindi che faccio vado dal tipo all'entrata con gli occhiali o tutto a cazzo duro vado da lui e gli dico sono in lista sono nella guest list con David Kronberg se non mi sbaglio si chiama così il tour manager di Travis Scott quindi ho detto pure il nome del tour manager capi e faccio entrare perché mi sta mi sta aspettando il mio amico fa il tipo guarda non va bene ma devi andare all'ingresso dell'hotel a prendere il timbro per entrare faccio no ma già mi hanno detto vieni qua e il tipo si incazza fa te lo spiego in italiano devi andare all'ingresso a prendere faccio ok siamo fottuti mi rimane sta cosa del timbro ci mettiamo in bagno dell'hotel 20 minuti io Pippo lui e Vincenzo i miei amici di là con sto pennarello a provare a farci sto cazzo di timbro che veniva ogni volta una merce veramente uno schifo c'era una macchia nera tutta sudata che si cancellava qua sulla mano a un certo punto dico vaiù basta cioè è rotto il cazzo andiamo vediamo che succede secondo me mi ha anche aiutato questa cosa che ho fatto prima di andare là a cazzo duro e dirgli bro appena passiamo facciamo giusto così vede la macchia nera e siamo entrati costava 500 euro solo l'ingresso con diritto di selezionare l'ingresso quindi tu paghi 500 euro e poi non ti vanno entrare e i tavoli incredibile comunque questa storia che sai i nipotini racconterai però mi sono perso costava 10.000 euro tipo il tavolo in 5 persone e 100.000 euro il tavolo in 20 una cosa del genere nel backstage c'erano Kevin Durant Tom Holland Mbappé e Neymar tranquillissimo sì entro appena entro nella folla c'era un buttafuori che però non controllava ingressi viene vicino a me e fa Nello tu che stai facendo cadendo no aspetta incredibile sta cosa e faccio frato mi ho pagato il biglietto azzo e tiene tutto sti sord e siamo stati là dentro ho visto il DJ set di Travis Scott che sono rimasto un po' deluso perché ha fatto tipo 20 minuti in cui urla e dà le stecche alle cose sì urlava prendeva per il culo la gente si rubava gli occhiali delle persone a un certo punto se ne è andato verso le tre e mezza del mattino e io me ne sono andato è stata una bellissima esperienza incredibile ma mi sono comunque mangiato il cazzo perché il mio amico francese mi ha detto bro dove cazzo sei andato Travis è rimasto fino alle 6 del mattino mi ha fatto salire in console mi ha fatto salire sul palco con due cioè il mio amico francese non ha pagato è entrato là dentro a scrocco è salito te ne sei andato da solo tipo io me ne sono andato con l'altro mio amico pensando fosse finito invece Travis è rimasto alla finale 6 del mattino a cazzeggiare che si è messo a fare il DJ non ha fatto più il DJ set però ogni tanto saliva sul palco faceva sali gente prendeva per il culo le persone cazzo però comunque sono molto felice molto felice è comunque una storia incredibile cioè poi fan firma pure su questo e il giorno dopo il il tipo napoletano che mi ha fermato mi ha detto Nello e grazie a me si è trasuto quando ha visto il rillo ho detto fratello non è vero ma chi ti conosce no è proprio però mi ha scandalizzato che là dentro c'erano veramente prezzi alti c'è una birra con una 50 euro alti anche per Monte Carlo ok c'era proprio una cosa 20 euro nel posto caro 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 a Monte Carlo era proprio una sala congressi hanno messo tutti i teli neri un palco in mezzo per grattare non c'era l'aria condizionata non c'era un cazzo io penso a questi milionari che hanno speso tutti questi soldi per stare là dentro a sudare minchia e tu sei imbragato sì esatto wonderful wonderful non c'entra il fatto che sono napoletano no 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 io non l'ho assolutamente pensato non so se qualche spettatore e in caso avete sbagliato a pensare questa cosa senti tornando sul discorso della chiave ironica sui social no cucciola tutte queste cose qui no però qua facciamolo chiaramente cerchiamo di andare un po' dig deep no chi è nello in una relazione allora secondo me il cucciolo sei tu sì sì no 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 io sono sono innamorato sono innamorato non sono fidanzato ma sono innamorato ok che solitamente non è una bella cosa una bella situazione eh no però è difficile stare con me comunque anche perché mi sposto molto e sì comunque sono un cucciolo veramente cioè io i miei amici mi prendono in giro perché se viene una ragazza a casa mia cioè la riaccompagno a casa capito non le prendo l'Uber la riaccompagno sono bravo ah e poi proprio che hai tre di mattina tearsi capito postnat sindrome cioè che è un sacrificio incredibile secondo me no sono un cucciolone in realtà e anzi a volte mi scoccio pure proprio di chiavare ok in che senso esco in discoteca io esco per per ubriacarmi per ubriacarmi per divertirmi entro in discoteca inizio a sudare come il pazzo mi viene lo schifo di avvicinarmi alle ragazze cioè solo di fare schifo e ma anche molte volte cioè tipo io cioè a Milano è diversa la situazione rispetto a Napoli esco cioè vedo anche la tipa propositiva a meno che non sia la donna della mia vita non lo so che mi ha catturato in qualche modo io preferirò sempre tornare a casa a fumarmi lo spinello a mettermi nel letto solo io veramente mi trovi d'accordissimo cioè io so fan di fare i bacetti in discoteca queste cose qui però allo stesso tempo cioè io tipo non capisco chi dopo la serata magari le 5 di mattina si organizza con la con il tipo la tipa e vanno a casa come fate con le 6 di mattina sai ti hai fatto 14 gin tonic cioè è proprio un concetto impossibile ti faccio un torto se ti guardo a casa hai capito ma poi che performance sessuale ci può stare in quel caso cioè io mi addormenterei in 4 secondi mamma mia è proprio è tosta è tosta e ti capita il discorso tipo la tipa che ci prova perché uno è esposto sui social e sta roba qui sì sì allora mi ricordo che tra l'altro Simone Panetti quando è stato qui ti ha nominato proprio in questo senso ha raccontato una roba tipo che le ragazze ci provano con te ma poi alla fine fanno le profumiere solo per sì 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 no mi è capitato spesso adesso ho imparato meglio ho imparato riconosci i demoni sì no ma anzi ti devo dire prima stavo molto di più appresso alla fessa capito cioè nel senso passavo tutta la serata a parlare con una tipa che andava a un festival mi metto a parlare con questa invece è passata un po' questa cosa quindi sto evitando anche molte di queste situazioni e no ho imparato dagli errori ho imparato dagli errori e poi a Milano la situazione è diversa che differenza hai visto? allora a Milano ci sono molte più donne fuori sede che si sono trasferite è una città molto più grande europea e quindi si sentono più libere magari le ragazze a Napoli dove stavo prima è più piccola ah ti sei chiamata a questo a quello all'osina zoccol quindi le ragazze hanno più paura magari ad esporsi perché non voglio dire a Napoli stiamo indietro eccetera però essendo un posto più piccolo che alla fine anche Milano è piccola le ragazze ci pensano due volte prima di darla una sera a uno e poi un altro e poi un altro ma anche per esempio con Roma c'è una differenza tra Milano e Roma e mi trovi d'accordo nel senso c'è un po' più vorrei semplicemente di uguaglianza nell'approccio di libertà di provarci con una persona magari anche c'è un po' più di assenza di giudizio tantomeno rispetto a Roma poi a Napoli non so c'è una cosa più cioè siamo due individui non è che se tu sei donna e c'hai body count e 138 allora io no infatti è un discorso sì Milano è tendenzialmente un po' più libera sotto questo aspetto anche se secondo me c'è un po' una cosa che ho notato è che allo stesso tempo ce l'ha il gossip cioè c'è il gossip non paesano però c'è il gossip c'è stessa cosa sì c'erano le 3000 cose e tu dici è una chiavata ma che volete capito invece c'è molto più lo stigma al sud perché anche le ragazze vengono educate in un altro modo dai genitori sono le madri questo lo diceva Paolo Sorrentino nel libro hanno tutti ragione le madri insegnano alle figlie a dire no 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 capii vieni a casa mia no no è un tipo di educazione diversa una città diversa magari ha contribuito pure questo che prima c'era più il discorso che dicevi appresso alla fessa come quasi un discorso di conquista adesso comunque essendo anche in un contesto in cui c'è più libertà te concedi te tranquillo e della situationship che c'hai del tuo essere innamorato ce ne vuoi parlare? ok prossima domanda no è una storia che va avanti da anni capito di stiamo insieme non stiamo insieme ci vediamo non ci vediamo non ti voglio più vedere non ti voglio vedere il travaglio però beh sono belle storie d'amore che mantengono il fuoco acceso capito sicuramente si sente tanto è roba che si sente un sacco come se dovessi conquistarla ogni volta che dovrebbe essere così in ogni relazione però quando ti abitui poi trumbo cazzo ti lasci un po' andare sì probabilmente è più vicino al concetto di amore come scelta che ogni volta c'è quasi un ok stiamo insieme per determinati motivi ci siamo riavvicinati l'ennesima volta per determinati perché qualcosa c'è e non per un discorso semplicemente di stato il luogo di stasi che poi a un certo punto è anche naturale in una relazione però allo stesso tempo probabilmente è più è più intenso più sentito l'altro tipo di declinazione in cui non è magari sempre tutto in discussione ma c'è una dose di meritocrazia sentimentale come il sesso è meglio a Milano l'amore è meglio a Napoli bellissimo apposto ma no perché a Napoli dell'amore perché secondo me è una cosa che ho notato dalle prime volte che sono arrivato qua molte persone si fidanzano perché si sentono sole a Milano ok ma credo secondo me scusami se ti ho interrotto secondo me c'è anche essendo una città più performativa magari questa cosa riverbera anche nell'affetto e quindi magari c'è molto il discorso della promiscuità anche affettiva c'è un po' la dispersione dell'affetto che ti senti con 35 persone insieme che è una cosa che ultimamente si fa tantissimo però forse a Milano è una cosa che ho notato proprio c'è c'è un sacco che tu ti senti con tante persone c'è tante situazioncine che non è magari la semplice scoma amicizia o la bombata c'è anche qualcosa però so 39 e alla fine non riesci a costruire che è pure una scelta perché magari uno punta un po' di più sulla carriera non vuole rotture di cazzo il commitment da relazione e invece magari in città dove quel tipo di vita c'è anche meno o comunque c'è un tipo di vita diverso c'è più tempo, energia e cultura dell'amore in senso un po' più classico magari c'è pure questo qua invece mi sembra molto spesso lavoro tutto il giorno quando arrivo a casa voglio trovare la mia ragazza pronta hai capito? ok quindi dici non mi voglio sentire solo dobbiamo risparmiare sull'affitto dobbiamo andare a convivere quindi proprio Anna Dritti sì mi ha dato molto questa sensazione Milano dal punto di vista amoroso ovviamente sto generalizzando sì stiamo generalizzando stiamo provando a capire sì alla generalizzazione cazzo sia agli stereotipi sia al patriarcat no troppo troppo questo la tagliamo chiaramente io dico sempre se una ragazza la dà tutti in giro io non la chiamo troia la chiamo subito perfetto perfetto ok e ho paura cioè al giorno d'oggi ho paura evito molto spesso c'è parte dei casi di conoscere tipo la tipa che mi contatta su Instagram e cose così ah sì vediamoci tipo sono cose che non faccio quasi più ma c'hai avuto qualche esperienza negativa al riguardo? erano quelle che dicevamo anche prima? sì 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 però cioè preferisco conoscere una persona da vicino sì è bello che è un po' più magari faticoso perché non è detto che ti capita con la stessa facilità con cui ti capita sui social però allo stesso tempo uno si è tutelato e più ma anche se una tipa questa cosa che dirò non mi farà più arrivare mai news da tipe però anche tipo mi mandi news cioè stiamo parlando mi iniziamo a mandare news cioè capii? mi passa un po' la voglia che palle anche se cioè no però mi passa la voglia capito? come se avessi già scoperto le carte come se fossi già già tutto pronto è bello conquistare sì sì più che altro entrare in relazione con la conoscere no? poi ci sta pure il discorso super come dicevano i Rammstein io c'ho il pisello tu c'ho la patata facciamolo no? quagliamo però ne avevo parlato mi sembra pure in qualche episodio del podcast no? a me è un periodo che mi capitava proprio il nudino il culo decontestualizzato culo manco senza manco che faccia c'è c'è il profilo chiuso esatto black mirror sì e poi è una cosa che non è che se la dick pic non va bene con le ragazze cosa che chiaramente non va assolutamente bene a noi deve andare bene un culo perché non è detto che facciamo cioè anche un po' a me faceva sentire la serie tu sei maschio e quindi ti mando il culo e quindi adesso ti ecci ti mi rispondi eccetera eccetera no? cioè mi dava mi dava fastidio no l'altro giorno ho fatto una quindi non me l'hanno più mandati ho fatto una storia riguardo c'avevo anche io sta tazza da bambino comunque è bellissimo e ho fatto una storia riguardo questa cosa e anche un reel tipo ho annunciato il fit con Guè no? e tipo la tipa mi ha scritto in chat ma che ce ne frega del fit esci melo ok bellissimo e ho fatto una storia in cui dicevo ragazze ma io sto annunciando il fit no? non sono l'oggetto cazzo no è vero è vero magari quella ragazza era ironica me lo auguro me lo auguro però sì ci sta questa roba che magari ci stanno ragazze che tipo ti scrivono il DM cose grevissime e tu ti stai erogare secondo me la pretesa solo perché sei ragazza e c'hai lo stereotipo di me che so uomo e quindi sto costantemente arrapato e invece no che che comunque e invece no vabbè ci stiamo a provare a fare gli intellettuali in realtà siamo maschi etero ammettiamolo e basta senti allora io su facciamolo in generale su Instagram faccio una rubrica che si chiama esperienze bruttine in cui chiedo alle persone di raccontare esperienze imbarazzanti a letto quindi se vuoi una o due esperienze te le chiediamo ok allora una volta è capitato che Satipa lei bellissima ragazza mi chiede mi chiede di spegnere la luce proprio tutte le luci dico vabbè poi insicura ci sta non sto qua a dirti no sei bellissima accendi la luce non devi se hai le due insicurezze spegne la luce a un certo punto qua addosso sono pieno di sangue pieno pieno le dico ma c'hai il ciclo no no ok è un problema che cazzo è sta roba accendo la luce ma sembrava che avessi accoltellato una persona American Psycho tipo e le ho detto ma non è il ciclo che cazzo è sta roba no no mi capita ogni tanto fatti vedere che cazzo è maronna quindi era quello il motivo era mi capita ogni tanto sì e io stavo a pensare un'altra cosa stavo a pensare era vergine no perché c'hai 30 anni invece un'altra volta era tipo all'inizio delle mie esperienze avevo tipo 16 anni 17 anni guarda a casa di questa ragazza più grande fidanzata comunque e c'era il padre e la madre nella stanza da letto erano tipo le 10 di sera noi stavamo in salotto questa si inizia a spogliare e faccio che cazzo fai ci stanno i tuoi genitori no no non fa niente non fa niente e io stavo cioè che cazzo comunque a un certo punto lei stava io ero ancora vestito perché avevo l'ansia cioè che cazzo entra il padre che guarda la figlia con uno sguardo tipo cioè un'altra volta una cosa del genere mamma mia comunque a un certo punto dico no senti cioè non si può fare stanno i tuoi genitori è appena entrato tuo padre cazzo no mamma lui tanto è abituato ma che cazzo è tremendo e comunque no passa una mezz'oretta che io dicevo senti non voglio basta fumiamoci una canna siamo qua cioè sono preso male in questo momento non è la situazione opportuna e va bene comunque tra un quarto d'ora venti minuti ne dovresti andare perché viene il mio fidanzato una combo di cose proprio sbagliate porco due cioè tu immagini il padre che scende vede la figlia a mezzanotte ma io sono stato male quando ho visto il padre fare quello sguardo lo sguardo del padre mi ha distrutto ma io mi sono preoccupato più io di lei che prima le chiedevo ma sento la televisione dei tuoi cazzo di genitori stiamo nel salotto sì sì andiamo in macchina che ne so sì 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 no è incredibile ma poi il discorso del fidanzato la hit finale sì 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 capito la punchline vattene adesso no ma io dico immagini il padre che vede la figlia così mezzanotte tutto quanto e vede dopo vede il fidanzato il fidanzato e magari c'è fai cene di natale cioè pensa che terribile terribile però la che fai poi fa niente hai fatto bene perché poi noi maschi diciamo sempre una cosa che dobbiamo scopare per forza ah sì sì bisogna rivendicare il diritto di non darlo e dire di no alla sorrentino adesso ti chiederò underrated overrated a letto e nell'amore ok missionario onesto 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 pecorina onesto toys guarda non ne uso molti quindi ti direi per me overrated ok per me perché nella mia vita non ne ho usati molti nei rapporti o per me stesso cena fuori onesto cioè allora se ci stiamo conoscendo si parte un drink fuori un drink fuori concordo la cena fuori rischi quattro ore di accollo di una persona magari non c'è sintonia è finita cioè tu passi una serata orribile quindi ci conosciamo col drink poi la cena è più in là e non sono di quelli che ti porto a cena fuori me la devi dare è controintuitiva è una stronzata incredibile sì cioè è tutto sbagliato io me la devi dare che cazzo è è un concetto terribile secondo me cioè serve secondo me serve solo per i reel di quelli che dicono l'ho portata a cena fuori ho speso quattrocento euro e non me l'ha data e c'è qualche meme che ti fa ridere per il resto non si dovrebbe fa casa e netflix underrated è sottovalutato bellissimo soprattutto con la pioggia cannetta netflix coperte però quello magari con la ragazza che che ami che sì con la sì con la ragazza che frequenti quello diventa netflix and chill sì farlo in macchina no ok lo bocciamo sto male proprio c'ho l'ansia delle rapine c'ho l'ansia che mi riconoscono c'ho l'ansia di qualcuno che fa le foto c'ho l'ansia dei guardoni c'ho l'ansia degli sbirri che vengono e ti fanno 5.000 euro di multa no cioè ma ho detto no a chiavate la tifo la tifo diceva no andiamo in macchina no a mo non esiste mi dispiace torno a casa bye bye però no ok ok ma ti è mai capitata una cosa del tipo a me è successo due settimane fa stavo limonando in discoteca boh due flashate ho detto non è possibile ma poi che cazzo sono è il so Brad Pitt mi fai tipo che cazzo Leonardo DiCaprio che è la modella gli fanno una foto che non va bene ma a me perché mi devi fare una foto sì no io mi incazzai molto andai al concerto di Fabri Fibra a Palapartene con la mia amata un annetto fa più o meno cioè c'era la gente cioè mi sono ritrovato dopo il concerto in 15-20 tag di gente che faceva la foto a me e lei che ho scritto ah Nello in love Nello in cioè ma che cazzo è una cosa e anche per questo ho l'ansia ad approcciare con le tipe in luoghi affollati a fare troppo lo stupido a fare troppo lo stronzo anche a limonare cioè davanti a tutti c'ho l'ansia sì 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 no diventa una conflittualità secondo me tra il discorso di cazzo voglio la mia libertà e il fatto che poi magari per un limone poi devi stare una settimana presso alle storie di Instagram e le rotture dei cazzo no ma più che per me è soprattutto per la ragazza cioè perché sporla in questo modo che cazzo cioè non è giusto anche cioè se quella persona non vuole essere esposta assolutamente assolutamente ciao ci limoniamo sì però ferma la liberatoria ferma la liberatoria andiamo lì dietro nel backstage con i bodyguard che fanno che fanno cerchio no no è un po' tricchi come discorso secondo me sono dei compromessi sono dei compromessi che uno deve capire però non ci avevo mai ragionato sul discorso della macchina io la macchina l'ho abbandonata sono stato tutta la stagione scorsa che facciamola di secondo me la macchina la dobbiamo rivalutare perché venivo tipo da un periodo in cui vivo ancora con i miei e c'è una macchina che era comodissima per scopare poi l'ho cambiata e mi è ricapitato una volta di fare sesso in una macchina tra l'altro è una giuca nuova non è che dici è una smart terribile mi soppiate le abrasioni per il tessuto e ho detto basta che schifo il sesso in macchina e poi ci stanno questi discorsi mi è capitato una volta che mi che mi bussassero i carabinieri sono stati di una discrezione incredibile sono passati tra l'altro io avevo finito in quell'istante cioè tu immagini finisci postnat syndrome luci blu mamma mia tu dici cosa cazzo è un'ambulanza la finanza i carabinieri la polizia che cosa può essere lo sguardios si si lo sguardios in generale quello era quindi rivestiti tipo spiti gonzalez posti davanti subito allora hanno fatto il giro sono ripassati documenti mi raccomando non vi mettete a chiacchierare qui perché ci stanno le telecamere e ho detto vabbè ok posto andato via grazie mille grazie signora guardia lieto però discreto da chiacchierare un'eleganza sono stati bravi si 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 adesso passiamo alla parte delle domandine infamine ok hai mai mandato un nudino alla persona sbagliata cioè tipo quello volevi mandare una persona e l'hai mandata no mai mai non mando news cioè solo a persone fidate si si sentito parenti stretti farlo si traumatico infatti mi sono bloccato vedi dimenticato il nome di qualcuno portato a casa si che figura è merda mamma mia anche perché mi ha fatto proprio l'infamata ma come mi chiamo no tremendo no no mi tremendo mamma mia figura è merda veramente mi sono sentito una merda vabbè però secondo me cioè nel senso io per esempio a livello omnestico proprio mi presento una persona vedo cinque volte è capace che mi diventi quel nome ci sta ti giuro quindi magari ci può sta come cosa però te l'ha proprio chiesto satanica e come mi chiamo ma sto tambriaca ma che buono vabbè sei stato sincero sì tremendo tieni una nota con il body count no però una nota con i porno ok cioè che tipo scopro una nuova porno te la dimentichi il canale porno nuovo te la dimentichi quindi me lo segno tutto concordo io ho ricominciato a guardare i porno da poco e ne ho beccato uno tra l'altro su un sito lercissimo che era incredibile ci stavano delle cose assurde e me lo sono dimenticato quindi concordo anche se il body count momentino divulgazione non è solo una cosa secondo me per flexare ma ci può avere senso nel momento in cui magari capita che uno si prende l'infezione perché nella vita può capitare e lì c'hai il contatto c'hai i contatti che magari ritieni dove avverti può essere vista anche in questa chiave se vogliamo proprio una cosa simile al body count che voglio fare da gennaio 2021 2024 e lo farò voglio contare in un anno quante segue mi faccio ok bellissimo allora ti dico già che secondo me a livello di goal 21 eiaculazioni al mese proprio scientifico se poi ti dico anche lo studio col DOI e tutto quanto 21 eiaculazioni al mese è stato visto che per un questionario self report garantisco la rigenerazione cellulare prostatica che aiuta nella prevenzione del cancro alla prostata quindi è 21 eiaculazioni al mese che non so tanti non so poche ma non so manco onesto uno deve stare tutti i giorni te puoi pia le ferie hai una settimana le ferie dalle pippe dato il numero di telefono sbagliato di proposito sbagliato no ma dato qualche volta il numero di un mio amico tipo dicevo bro attacca che è una cosa da persona famosa questa non ti preoccupare se vedi una chiamata no che poi io in genere me lo prendo il numero di telefono ok non lo do i giochi eh sì di anticipo sì sì stratega fatto nel bagno in una discoteca chiamato chiamato no però cosine sì 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 che poi non mi piace mi mette l'ansia sincero mi mette l'ansia sì deve essere proprio il momento che è partita la nave se no fatto la cacca dopo la prima notte insieme sì ma prima di tutto musica seconda volta seconda cosa lei deve star dormendo se non abbiamo abbastanza confidenza a costo di cagarmi addosso e una volta fu proprio brutto mi tratteni questa non si addormentava fece una scorreggiate lì cioè proprio ma rumorosa cioè no liquida quelle caldissime proprio che stanno a 70 gradi che proprio ok mi sono cagato addosso capito tremendo tremendo e come l'hai gestita? ho detto a modi un attimo che l'hai detto hai detto guarda io ci ho provato dormito durante l'atto cioè ti sei mai addormentato durante l'atto è un litigato cioè è successo con la mia ex fidanzata e parentella giustamente l'ha presa come un non ti piaceva abbastanza quelle cose lì l'ha presa come se un coglione del cazzo il cazzo di addormenti mentre scopiamo scusate la bestemmia no figurati però è stato brucio cioè mi sono sentito anche io una merda tanto ma secondo me è una cosa che può capitare è una cosa veramente una cosa che può capitare anzi secondo me per addormentare devi stare tranquillo devi sentire al sicuro è quello che ho detto quando uno si addormenta così facilmente con una persona perché con quella persona sta bene vabbè però se gli hai detto così secondo me c'è stata spaccata ma sono paraculo però è vero cioè nel senso io non mi addormenterei mai se mi capita una persona che magari non si sa proprio mai esatto mai proprio posto più strano in cui l'hai fatto Villa Panfili a Roma in una zona che io pensavo ero giovane ho tipo 18 anni io pensavo che la zona in cui stavo da dietro non potesse passare nessuno e a un certo punto sbuca la macchina dei carabinieri proprio e gente che passava in bicicletta e mi sono reso conto di stare al centro di capito ok ok e vabbè t'hanno sgamato no 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 è semplicemente fatto esatto a posto così fatto da fatto sì hai qualche sostanza preferita prediletta ma se no tu che fumi tanto come te trovi la ganja allora la marijuana mi aiuta durante l'atto ma prima dell'atto no perché divento totalmente timido stupido non so parlare non so quando è il momento del passo quindi marijuana è bello però durante l'atto nel senso che fumi mentre è capitato qualche volta col cannone è bello che lo passavi a lei paradiso bellissimo bello però poi a un certo punto devi scegliere dove dare l'attenzione alla canna quindi la canna viene posata sempre poi a metà che è giusto anche perché te fai un trombone così mentre lo fai secondo me rischi rischi bene io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui Nello grazie a te dai e forte per quest'album sono curiosissimo e dai grazie grazie a te tanto amore e forza Napoli questo io sono romanista quindi vabbè mo se me inamo te l'ho dato apposta mentre mi davi la mano ok mo mi offri da bere dai e grazie ciao raga un bacio